Negli spazi esterni dell'Istituto Alberghiero Santa Marta è partito il Festival Utopia, ovvero un'esperienza di lavoro, inclusione e condivisione che durerà fino al 25 agosto, portando a compimento un lavoro a più umani, coordinato da Onlus Gulliver, garante per la disabilità e lo stesso Santa Marta, affiancati da Comune Provincia Aba Hotels. Obiettivo del Festival è sostenere l'inserimento lavorativo degli ex alunni, in particolare di quelli con disabilità, e farlo allestendo al Santa Marta un punto di ristoro e intrattenimento che sarà aperto tutta l'estate e che sarà gestito interamente da neodiplomati al lavoro ai tavoli e in cucina. 60 famiglie, 60 ragazzi, quasi 120 nuovi volontari, quindi un esercito, tanti professionisti che danno una mano gratuitamente, abbiamo assunto poi dei cuochi e alcuni camerieri per insegnare i ragazzi, è un sogno, dalla mattina alla sera, la mattina pasta fresca, cucina, il pomeriggio laboratorio ancora di cucina, la sera si va per il ristorante, il bar, musica dal vivo, laboratorio vintage, libreria, tanti settori dove i ragazzi si stanno spendendo per dimostrare agli altri, a tutti, che possano essere vincenti, dove spesso non vengono considerati. Questo è il giusto modo anche di integrare i ragazzi anche con disabilità nel mondo del lavoro, cioè utilizzare quello che loro hanno di potenzialità e metterle a disposizione di tutta la società. Sono molto contenta, qui appunto Festival Utopia, questa non è un'utopia ma in realtà si sta toccando con mano, quindi anzi auguro a questi ragazzi di lavorare e di avere un bel futuro. Come dico di tutti i progetti che ho fatto fino ad oggi nel comune di Pesaro, questo è quello che mi tocca veramente il cuore. Ad arricchire il festival ci sarà anche la bottega del riuso della Gulliver, ci sarà uno spazio dedicato ai dibattiti e la mattina il festival si aprirà anche a laboratori durante i quali i ragazzi prepareranno pasta fresca e piadine acquistabili dal pubblico del festival. L'idea di pensare anche a una ristorazione fatta in un certo modo in cui siano tutti valorizzati e non sia semplicemente un pensare sempre al profitto, cioè anche proprio un'idea nuova di lavoro nel campo della ristorazione. solo che avevamo sempre questa cosa del dire ok finita la scuola, rimane un po' tutto lì. Bisogna trovare qualche cosa per aiutare i ragazzi anche a trovare una possibilità di lavoro, è importante questo. Quindi abbiamo provato, abbiamo avuto la fortuna di incontrare anche persone molto attente a questo, una è la Marusca Palazzi che garante la disabilità del comune di Pesaro e l'altro invece più folle perché ci vuole un po' di follia per fare questa cosa è Andrea Boccanera della Gulliver che appunto insieme si è creata una sinergia tra noi tre. Chi è utopista ha il continuo compito di denunciare e annunciare. Questo sta a significare che io in qualità di garante ho il dovere di dire che le politiche che hanno a che fare con il lavoro delle persone in condizioni diverse o in situazioni di disabilità non sono ancora ottimali, abbiamo bisogno di rimetterci a ragionare sulle politiche che riguardano il lavoro, questo ha a che fare con tutti anche con l'amministrazione per cui anche già partendo dagli stati generali che abbiamo vissuto un paio di settimane fa abbiamo rimesso in discussione appunto queste politiche. Il festival nasce un po' da questa esigenza, l'esigenza di inserire ragazzi con disabilità soprattutto intellettiva nel mondo del lavoro con tutoraggi, con anche migliori prospettive dal punto di vista contrattuale, cosa che ancora non funziona molto bene. Ci sono realtà che funzionano, anche tirocini di inserimento sociale che danno grande valore al percorso di vita dei ragazzi ma ancora poco retribuiti, quindi dobbiamo rimetterci in gioco e ragionare anche su cosa significa iniziare nuove imprese, anche imprese sociali per il futuro e quindi spero che durante un tempo così lungo che è quello di tutta l'estate questa riflessione possa essere una grande riflessione da parte di tutti i cittadini.